sono partite intanto Lalia Luca Renni del Saboran Online Sofia Padel del Red Black Asia Bailo della Padernese Lalia Topolo Skipping Club Comina Olivia Sprega Forte Nuno Fabriano Karen Disfoto HP Padova Andiamo adesso Andiamo Andiamo Fata la treda della Padernese che cerca di fare largo dietro di sé Dai Asia Andiamo 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 Paternese Forte Nuno Fabriano Vediamo il terzo posto Padova Fata la batteria composta da Isabel Dovreva dello Skipping Club Romico Isabel Casarin di un patinaggio Ma in raga dello Sport Inside Elisa Elisa Albertini Skipping Club Marlene Secondi GS Scaltenigo Asia Prudentino Sabora Prudentino Sabora in line L'atleta proprio della Sport Inside questa fase in testa di questa batteria non bacca la ragazza alle sue spalle Può entrare la decima Sono partite Giulia Perecina HP Padula Vittoria D'Andrea Skipping Club Comina Eva Sciore della Fortitudo Fabriano Cora Gualtieri della Padernisi Asia Figato Skipping Club Romico Ludovica Clevia Deimane Sabora in line Dai Cora che passa per primo il passato dell'ultimo giro Dai Cora Dai Cora Stai dietro Cora vai Si chiude così la fase di qualifica della categoria allieve alla quale possiamo fare un bell'applauso per questa fase di